ciao a tutti amici e ben ritrovati sul canale bentornati per un nuovo video se siete nuovi benvenuti un calloroso benvenuto vi invito ad iscrivervi quantomeno a considerare di farlo e a tutti quanti iscritti e non lasciare il consueto mi piace che tanto aiuta i nostri video il canale stesso e adesso che ci siamo si attivate anche la campanella delle notifiche io lo faccio sempre quando mi scrivo di un canale ogni qualvolta poi che magari c'è un nuovo contenuto vi arriva direttamente la notifica sul telefono è meraviglioso non lo è ragazzi per quale motivo impariamo la lingua inglese per motivi di lavoro molte persone la imparano per motivi di lavoro certamente poi per poter viaggiare sicuramente quando si viaggia se si conosce la lingua inglese ma sempre bene perché riusciamo sempre a comunicare per poter parlare per poter quindi interagire con persone che non parlano la nostra lingua certamente questi sono alcuni dei dei motivi per cui le persone imparano la lingua inglese ma ci sono dei benefici che non sempre vengono menzionati io ve ne dirò un paio che ho riscontrato sulla mia esperienza quindi sulla mia pelle d'accordo il primo il primo credo sia un po universale che ci che accomuni molte persone è il seguente guardare i film in lingua originale e ascoltare musica e capirla è una sensazione bellissima è un è meraviglioso ok sedersi a tavola o sul divano andare a cinema e guardare un film in lingua originale è un'esperienza diversa quindi questo è il primo motivo insieme chiaramente alla musica se amate la musica siete amanti della musica anglosassone ragazzi avete bisogno della lingua inglese perché vi si aprò un mondo d'accordo e adesso vi darò un esempio a me piace uno stile di musica particolare si chiama manoush o gipsy jazz ecco è difficile trovare informazioni in lingua italiana adesso un po di più se ne trovano ma quando iniziato a seguire questo genere di musica che tra l'altro volevo studiare con la mia chitarra c'erano poche informazioni quando ho imparato l'inglese mi si è aperto un mondo perché ho potuto accedere a librerie a documentare addirittura ho potuto seguire comunque delle lezioni online in inglese e senza padroneggiare bene la lingua inglese non avrei mai potuto far parte di questa scuola di questo corso quindi ho seguito e documentarmi così tanto perché l'amore di documenti che c'è lingua inglese è superiore all'italiano questo credo che non valga soltanto per questo genere di musica ma valga un po per molte altre cose per cui ragazzi ecco ascoltare musica leggere i testi in lingua inglese lingua originale guardare i film in inglese lingua originale è meravigliosa ne vale la pena vale la pena imparare l'inglese soltanto per questo motivo è una finestra sul mondo ragazzi mettiamola così è una finestra sul mondo vi auguro di poterlo imparare non vi resta che studiare che provare ok non scoraggiatevi mai però perché non è facile noi abbiamo fatto per il video di oggi è tutto ci vediamo la prossima settimana o tra un paio di settimane con un altro video un saluto da antonio ciao a tutti ciao ciao